ciao a tutti il motivo che vi presento oggi è questo motivo a zig zag e come vedete è formato su una base di punto riso allora il motivo sul davanti si presenta in questo modo e sul dietro e così allora è un motivo ovviamente molto molto semplice e quindi adatto alle principianti è formato da un multiplo di 10 quindi di 10 maglie in questo caso io ne ho montate 4 c'è 4 motivi quindi andiamo a montare sul ferro 10 10 10 10 più le 4 di vivagno cioè 2 per ogni lato che andranno a formare il bordino per quanto riguarda l'altezza invece il motivo si realizza in 10 ferri quindi è veramente semplice naturalmente lo possiamo utilizzare per svariati progetti dai cardigan a delle copertine a delle sciarpe capellini magliette maglioni tutto quello che più vi viene in testa andiamo adesso a vedere come si realizza ho montato sul ferro un totale di 44 maglie perché vado a fare 4 motivi essendo il motivo multiplo di 10 vado a lavorare appunto 10 10 10 10 più le 4 di vivagno che andranno a formare il bordino partiamo dal primo ferro e andiamo a fare insieme un solo motivo vivagno vi lascio qui sopra il link che vi riporta come fare il vivagno 5 diritti 1 2 3 4 e 5 un rovescio e un rovescio e un diritto un rovescio e un diritto un rovescio andiamo a ripetere questo motivo secondo secondo ferro vi bagno un rovescio un diritto 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 un rovescio due diritti 1 e 2 ripetiamo questo motivo quarto ferro vi bagno tre rovesci 123 un diritto e un rovescio un diritto e un rovescio un diritto due rovesci andiamo a ripetere questo motivo quinto ferro vi bagno un diritto un rovescio e un diritto un rovescio e un diritto un rovescio quattro diritti 1 2 3 4 ripetiamo questo motivo sesto ferro vi bagno 5 rovesci 1 2 3 4 5 un diritto e un rovescio un diritto e un rovescio un diritto ripetiamo questo motivo settimo ferro vi bagno un diritto e un rovescio 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 quattro diritti 1 2 3 4 ripetiamo questo motivo ottavo ferro vi bagno un diritto e un rovescio un diritto e un rovescio un diritto e un rovescio 1 2 5 e un diritto e un diritto un rovescio e un diritto e un diritto un rovescio e un diritto che 2 diritti 1 e 2 ripetiamo questo motivo decimo e ultimo ferro vivagna un rovescio e un diritto un rovescio e un diritto un rovescio un diritto 4 rovesci 1 2 3 4 ripetiamo questo motivo come potete vedere il motivo è praticamente terminato per ripeterlo non dobbiamo far altro che ripetere i ferri dal numero 1 al numero 10 il motivo il video sono terminati e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao